Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi anche oggi un bel po' di novità e un po' di rinfresco della memoria Per quello che riguarda il futuro di Fortnite, i premi che saranno disponibili anche oggi E tutto ciò che sta per arrivare Parleremo un attimo dell'FNCS, oggi ci sono le qualifiche, le farò anche io in live ovviamente su Twitch Ma ci saranno anche dei drop attivi e appunto il nuovo livello dell'acqua Che tra meno di tre quarti d'ora scenderà mostrando un sacco di cose, insomma tanta tanta roba Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop Con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali E soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi Ed è ovviamente la notizia che tra meno di tre quarti d'ora sarà disponibile il VL0 Il VL0 ragazzi è praticamente l'ultimo livello di abbassamento dell'acqua Quello che scoprirà completamente la mappa riportandola a come erano abituati a vederla Ad esempio Pantano si abbasserà nuovamente Usciranno delle nuove strade Tutta la parte sinistra potrà essere calpestabile Ma riemergeranno anche delle terre appunto Che riformeranno correttamente il corso dei fiumi Le nuove, le novità che saranno presenti ovviamente con questo abbassamento La principale sono il The Ruins Le rovine ragazzi che appunto possiamo vedere nella minimappa Così come si presenterà esattamente sopra sabbia sudate Lo sapete meglio di me Apparirà la nuova location Quindi scomparirà il mega vortice Per dar spazio alle rovine che sono appunto dedicate ad Atlantide Ve le faccio vedere ancora meglio Zoomate Staremo a vedere anche se ci saranno poi delle piccole quest O comunque se si reintegrerà la storyline di Aquaman Con tutta la storyline di questa season Che tra l'altro Da quanto mi risulta potrebbe essere la prima season senza un evento Perché personalmente non ho trovato nulla in giro Non ci sono per il momento degli elementi Che facciano pensare Arrivi un evento che chiuda la season Come siamo stati abituati a vedere nelle precedenti Secondo me potrebbero essere le auto Questa grande nuova introduzione Insomma vedremo un po' insieme E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi Perché voglio ricordarvi anche che con l'abbassamento dell'acqua Arriverà finalmente la navicella spaziale di Siona Quella che adesso è ancora coperta e rimane dietro scogliere È molto importante ragazzi questa navicella Perché in realtà potrebbe essere uno spunto Per un eventuale evento In quanto arriveranno delle challenge dedicate Che daranno delle ricompense Non sappiamo ancora se le ricompense saranno dei punti esperienza O ad esempio degli oggetti Magari uno spray, un adesivo O perché no un piccone Non sappiamo nulla Ma ci ricordiamo appunto Che ci sono tre passaggi fondamentali Che dovremmo fare La prima è quella di trovare la navicella La seconda è quella di recuperare le parti della navicella E le stiamo vedendo proprio qua Le parti sono battery Quindi la batteria Thruster Che non ho di assolutamente cosa sia E head shield Quindi lo scudo ragazzi Una volta trovate Farò dei video ovviamente Non vi preoccupate sul canale Dove saranno le posizioni Dovremmo preparare il dispositivo di lancio Ma in realtà Dovremmo poi evitare Che la navicella lasci il suolo Quindi non sappiamo davvero Che cosa aspettarci L'unica cosa Che siamo al corrente È che la navicella Ha i colori uguali a quelli di Siona E che Nella modalità replay Andando a vederla Dentro c'era un astronauta Che in realtà Non dovrebbe esserci Una volta che il livello dell'acqua La scoprirà Quindi sicuramente qualcosa di interessante Sta per arrivare E di solito Quando Epic Games Parla di spazio Di navicelle C'è sempre qualcosa di molto figo Quindi incrociamo le dita E magari proprio da lì Ci sarà lo spunto Per la season numero 4 Che arriverà il 27 agosto E andiamo avanti a parlare Del prossimo Argomento di oggi Perché C'è una cosa davvero Molto particolare Che potrebbe accadere domani C'è ancora Un pack Criptato Nei file di gioco Che pesa 199 mega Questo lì Che dice Il pack Potrebbe molto probabilmente Che non si dice molto probabilmente Potrebbe probabilmente Includere The Atlantis Poi Quindi le rovine Ma Dov'è il pack Delle automobili? Perché effettivamente Non è ancora presente O arriverà nella pagina Nella patch 13.40 Oppure Sarà questo? Ed è veramente un bel dibattito Perché Noi ci ricordiamo Che Epic Games aveva detto Proporremo i veicoli Entro un tot Di settimane Ma poi Avevano tirato fuori Un bellissimo argomento Che dice Epic Games Quando parla di settimane In game Non ragiona Nell'ora solare Come noi siamo Abituati a vedere Cioè i giorni su Fortnite Sono più veloci Dei giorni veri Quindi Incrociamo le dita Perché Potrebbe anche essere L'ultimo pack criptato Quello dei veicoli Non si sa O altrimenti Rimarrà tutto come sempre E le macchine arriveranno Nella patch 13.40 Ma andiamo avanti a parlare Di un altro argomento Oggi iniziano Le qualifiche Per le FNCS Potete partecipare Tutti Vi ricordo che Il torneo È in singolo Si comincia alle ore 12 Fino alle 14 I vincitori Quelli che passano Vanno dalle 15 Alle 17 E l'ultimo turno Dalle 18 Alle 20 La cosa che a noi interessa È che ci sono dei regali Per tutti voi Che guarderete X streamer Su Twitch Determinati streamer Io vi ricordo che Il mio canale Twitch Le ultime FNCS Quelle dell'anno scorso Aveva i drop abilitati E molti di voi Hanno appunto Guadagnato Allora Lo spray giallo E l'adesivo giallo Per questa volta Abbiamo ancora uno spray E un adesivo azzurri Ma c'è anche Il backpack Voglio intanto Farvelo vedere In uno spezzone Questo sarà ragazzi Il backpack Niente di esagerato Ma ovviamente È gratis E quindi è molto carino Ovviamente Vi invito A fare un salto Da me Di là Sulla piattaforma viola Perché potrebbero essere Davvero abilitati Anche per questo giro I drop E quindi Guardando una porzione Di live Di solito 15 minuti 20 minuti E collegando Vi ricordo Il vostro account Al A twitch Al vostro account Di twitch È davvero semplicissimo Ragazzi Collegare Il vostro account Di epic games Con quello di twitch Sotto il lettore Della live Troverete Una scritta Dove vi dirà Hai collegato Correttamente L'account Altrimenti C'è un link Ci cliccate sopra Vi do un consiglio Provate Se dopo 15 minuti Loggate su Fortnite E non vi da le ricompense Vi invito A sloggare L'account Da twitch E riloggarlo In questo modo Non ci saranno Assolutamente problemi Davvero quindi Molto carini Anche Queste ricompense Speriamo di averli Troppo abilitati E in bocca al lupo E andiamo avanti a parlare Del prossimo Argomento di oggi Perché vi ricordo Che c'è anche Un nuovo premio Una nuova ricompensa Che tra pochissimo Sarà disponibile Per tutti noi Kenshi Yoneisu Yoneisu Non lo so Al party reale Il popolarissimo Cantautore giapponese Sale sul palco principale Con un evento In video anteprima Creato esclusivamente Per il party reale Kenshi ci accompagnerà In un viaggio sonoro Attraverso i singoli Del suo nuovo album Stray Sheep Insieme ad altri successi Non perdere l'evento In video anteprima Agli orari seguenti Sul palco principale Del party royal Venerdì 7 agosto Alle ore 13 E alle ore 19 E sabato 8 agosto Alla 1 del mattino Per festeggiare La performance Di Yoneisu Al party reale I giocatori Che si tufferanno In fortnite Da venerdì 7 agosto Alle 2 Fino a sabato 8 agosto Alle 2 Riceveranno Uno standard Gratuito E questo ragazzi È lo standard È davvero molto carino Sembra un personaggio Con una maschera Che va un pochettino A richiamare I dottori della peste Avete presente Le due skin Che sono uscite Oramai più Di un anno e mezzo fa Sul battle royale Ma sicuramente Un premio gradito Per tutti quelli Che vogliono Collezionare Più cose possibili Che Epic Games Decide di regalarci Insomma ragazzi Io anche per oggi Tutte le news Ve le ho dette Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Non dimenticate Di lasciare Un bel pollicione in su Iscrivetevi Ai miei canali E a me Mi trovate E proprio adesso Il live su Twitch Ciao Bestia 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 Che caldo Bestia Che caldo Poi quando lasci l'acqua fuori Vien su calda Non ti rinfresca neanche Non ti rinfresca Una roba Che ti lascia proprio